Ammonta a 275 mila euro il contributo economico complessivo appena stanziato dalla comune di Pistoia a favore di due settori gravemente danneggiati dalla pandemia, le associazioni e le società sportive dilettantistiche e quei gestori privati che dal 14 giugno al 30 settembre hanno realizzato centri estivi, centri socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa per i minori nella fascia 0-17 anni. Noi anche quest'anno, come avevamo già fatto l'anno scorso, abbiamo deciso di stanziare questo importante contributo perché è importantissimo per i centri estivi. Noi si parla di centri estivi e socioeducativi che sono stati fatti nel periodo fino a tutto settembre. Per fare questa richiesta ci sarà tempo fino alla fine dell'anno. Nello specifico per i centri estivi e per i centri socioeducativi territoriali sono stati stanziati 175 mila euro. Il contributo che viene stanziato è un contributo che arriverà a un massimo di 5 mila euro per centro estivo. Alle associazioni e società sportive dilettantistiche sono destinati invece 100 mila euro. Associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche che hanno subito nel periodo della pandemia, quindi primo da marzo 2020 fino a settembre 2021, dei disagi dal punto di vista economico e finanziario, tali da poter chiedere un contributo in merito sia anche a fondi e quindi locazioni private, di fondi privati, che per tutte le spese e sanificazioni che hanno sostenuto.